E' bello, città di Lazio, città di Lazio Cagliari, che è finita 2-1 con la vittoria della Lazio. In cui la Lazio nel primo tempo ha segnato Luisa Alberto, poi il secondo tempo ha segnato Correa. Poi la Lazio durante la prima partita di Montonese ha segnato Luisa Alberto, poi ha realizzato lo svantaggio. La Lazio adesso porta 3 punti e si va al settimo posto, dove c'è la Roma, che è dentro l'Europa League, se in caso perderà la partita, che c'è dentro l'Europa League, scenderà un po' e quindi la Lazio nella prima partita ne potrà approfittare. Quindi ragazzi, la Lazio torna tra la torta e l'Europa League, dopo che torna la torta da mezzo, quando sta l'Europa League. Quindi ragazzi, la Lazio torna tra l'Europa League, come quest'anno, che probabilmente ha perso 3-0 di Sevilla. Quindi ragazzi, la Lazio, vediamo se quest'anno troverà l'Europa League, oppure non andrà a giocare. Poi ti vede tutto dalla Roma, di Ranieri, che potrà distruttare la Roma, ragazzi. Ranieri tra le partite non nascerà la Roma, quindi ragazzi, la Roma sarà così, trova un allenatore dopo Ranieri. Non lo so, ragazzi, che hanno dovuto togliere, ma comunque non è partita. Quindi ragazzi, con il Cagliari non vince ancora una volta e torna un betto sconfitto con il TNAPOL, il betto da uno. Quindi ragazzi, il Cagliari scende a battere il diciimo posto, in cui stavamo al diciimo posto, dove stava prima la Fiorentina, che ora sta a perdere la notizia alla Finder, e ora per il Cagliari sarà molto dura tornare per la lotta Europa League, che ha fatto una grande ripigliata, poi stavamo scendendo un pochettino. Quindi ragazzi, con il NAPOL, il Cagliari ha fatto l'ultima partita, anche Paoletti ha segnato a continuare, e poi diciamo sarà la data stagione con il Cagliari. Quindi ragazzi, per la Lazio, che torna a prendere il Dott Europa League, quindi va al settimo posto, il Cagliari dovrà trovare un'altra partita per tornare in Dott Europa League, ormai siamo la capire della stagione, ormai spero che il Cagliari forse per l'anno prossimo, per la Lazio spero che riuscire a trovare l'Europa League, che ora sottrattare alla Roma, e ne sarà molto difficile, poi dipende dalla Roma cosa fai contro la Juve, la prossima partita di qui, ma dovrà andare a giocare. Quindi ragazzi, come sempre, noi ci vediamo con il prossimo video, ci vediamo con Fiorentina Mila, quindi ragazzi è tutto, ciao!